L'educatore come testimone politico è il tema del convegno promosso dall'Azione Cattolica Diocesi di Andria a settore giovani con la testimonianza di Michele Davino, direttore dell'Istituto di Diritto Internazionale della Pace Toniolo. In un tempo segnato dal disimpegno politico e dalla abnegazione e dalla necessità di una dedizione chiara e decisa a favore della polis, l'Azione Cattolica vuole favorire quei processi di testimonianza politica e di impegno per l'uomo e per la città, a partire proprio dalla formazione delle giovani generazioni. L'educatore come testimone politico, cioè l'educatore chiamato ad una missione politica? Assolutamente sì, c'è bisogno di educatori che innanzitutto vivano con serietà la propria dimensione di cittadinanza, bisogna riscoprire il senso dell'appartenenza alla comunità e farlo da protagonisti. Si è cittadini due volte, innanzitutto perché in quanto educatori di azione cattolica costruiamo già ora e già qui il regno di Dio e quindi la città di Dio, ma assolutamente questa cittadinanza passa attraverso una vita spesa dentro i quartieri, dentro le piazze, tra la gente, quindi cittadini della città dell'uomo. Riscoprire dunque il senso di costruire i legami sociali perché è così che si costruisce poi anche il bene comune. Educare i più piccoli proprio al bene comune? Esatto, i più piccoli possono in realtà insegnarci tanto, bisogna però lasciare loro la possibilità di farlo e l'educatore in questo senso in qualche modo accompagna i sogni dei bambini, sogni di bene e li fa crescere perché attraverso la guida responsabile, una guida creativa delle giovani generazioni, anche gli adulti possono imparare a costruire di nuovo e a ripensare il senso della propria cittadinanza e appartenenza ad una comunità. E' il primo di due laboratori di formazione, in questo laboratorio di formazione che si rivolge soprattutto agli educatori parrocchiali di quel mondo giovanile che va dagli adolescenti ai giovanissimi e poi ai giovani. Il primo di due laboratori di formazione, l'altro si terrà a gennaio, che guarda, focalizza l'attenzione sul tema della politica e della missione politica dell'educatore. E' importante sin da piccoli educare i bambini e poi i ragazzi all'impegno sociale, alla socialità. E noi crediamo che forse il primo testimone politico che i bambini incontrano nel loro percorso formativo ecclesiale è proprio l'educatore. E all'educatore che ci rivolgiamo spieghiamo, vogliamo indicare una strada per educare alla politica, ma soprattutto una strada per educare se stessi alla politica come educatori.